Buongiorno a tutti, buongiorno da Europe, da R Trieste, siamo qui in occasione della quindicesima tappa del Giro d'Italia i ciclisti partiranno tra poco dato il mezzo, ma nel frattempo abbiamo due personaggi molto interessanti qui sul camper della Commissione Europea, vi presento subito Roberto Santaniello il meno interessante no, 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 che è responsabile di Sting di Europa solo perché è maschio e niente popò di meno che è la pluricampionessa sono molto agitati pluricampionessa Manuela Dicenti, che ho grande piacere, vi conosce perché con questo sono una fondista c'è due parole su quello che significa il contributo della Commissione Europea per questo Giro d'Italia beh, la risposta è quello che vedi adesso nel senso siamo in quel bel camper che ci guida Alessandro con Ilenia che da qualche parte ci ascolta anche ed è quello di riuscire a far capire alla gente, alla gente con la doppia G che l'Europa non è in Europa ma è anche in Italia e soprattutto sulle strade meravigliose rosa che è questo giro che si snoda in questo meraviglioso Giro d'Italia basta, poi la parola è tutta per Emanuela io mi sento immersa in quello che è questo grande tappare, tappa per tappa regione dopo regione e questa volta alla grande anche nazione dopo nazione come Giro d'Italia un messaggio grandioso, mi permetto di dire che lo sport sempre di più anche in chiave europea però lo sport ha una chiave universale assolutamente io come membro del Comitato Olimpico Internazionale questo ci tengo a sottolineare in modo forte lo sport è una forza, ha una capacità universale di parlare proprio con una lingua universale io dico abbatte confini fisici e mentali va al di là di quello che sono le frontiere, di quelle che sono le difficoltà, di quelle che sono le politiche facciamo un esempio per andare sul concreto, guardiamo cosa ha fatto l'Olimpiade di Pyeongchang attraverso il dialogo con la Corea questo è uno degli esempi più belli, più forti, più concreti anche di ciò che vuol dire dialogo che è uno dei grandi temi dell'Europa dialogo, integrazione, apertura, condivisione attraverso i vari progetti ma alla fine che cosa si vuol fare? quello che spesso lo sport più di altri riesce a fare cioè a mettere insieme e far parlare in pace ecco questo, tornando poi al Giro il Giro rappresenta una grande universalità anche questo che dà la possibilità a tutti noi di spread out the message cioè di mandare in giro questo messaggio che lasciatemelo dire, basta, no? solo con carte e risoluzioni e leggi, no? e la gente che fa l'Europa e la gente che fa l'Europa e leggi le facciamo sempre di meno siamo molto più selettivi e messaggi invece che vengono anche dalla concretezza dell'essere qui oggi del parlare con la gente di dire che anche lo sport ha grande progettualità e grande appartenenza all'Europa perché l'Europa nell'ambito sportivo ci ha aperto grandemente le porte alla cultura dello sport allora io ho delle cose meravigliose che vorrei dire è un grazie del lavoro che mi è stato che mi ha del lavoro che grazie all'Europa sono riuscita a raggiungere non tanto per me ma soprattutto per i giovani io grazie alle linee guida Europa 2020 sulla cultura sulla cultura e sullo sport in Parlamento sono riuscita a proporre a condividere con tutte le forze politiche un progetto di nuovo modo di vivere la scuola di vedere la scuola quindi è nato il liceo a indirizzo sportivo che è un liceo che noi abbiamo adesso o i nostri ragazzi e ragazze possono usufruire adesso che è un liceo un liceo a tutti gli effetti ma è un liceo che parla in chiama sportiva è un liceo per far sì che il tema sport possa diventare anche lavoro in prospettiva di un lavoro di una preparazione liceale per un lavoro nell'ambito dello sport e questo è ecco questo fa anche l'Europa queste credo che secondo me sono le cose che vanno dette queste sono le cose che poi tra tante burocrazia perché la gente non ne può più di tanta burocrazia però ogni tanto anche cose concrete vengono fatte ecco e viene fatto anche a me piace mi piace perché è un concetto che io amo l'apertura l'apertura è la condivisione tra tutte le nazioni il più possibile tra tutte le nazioni poi ognuno deve mantenere la sua radice il suo cuore però l'apertura io ho vissuto tante chiusure nel mio mondo dello sport volevo chiederti infatti come donna per esempio se hai avuto qualche difficoltà magari da bambina visto che mi sono informata anche da adulta anche da adulta io non immaginavo tanto no 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 da bambina ma anche da adulta perché comunque ci sono incredibilmente delle diseguaglianze di genere ormai non tanto per quanto riguarda la legge chiaramente che abbiamo risolto quasi tutto insomma abbiamo parità sulla carta dappertutto ma abbiamo delle diseguaglianze che addirittura non ci accorgiamo di avere perché sono talmente parte della nostro quotidiano della cultura cosa radicata sì la donna o la bambina quando è bambina è chiaro che prende la bambola e io allora io la bambola non la volevo mi sentivo una diversa e che caspita no poi per fortuna che ho avuto il mio padre che mi ha detto tu devi fare quello che ti piace se non ti piacciono le bambole ti piacerà qualcosa e ha avviato allo sci ma non solo a una pratica sportiva di tanti sport migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze con l'obiettivo non di farli diventare campioni olimpici ma di aprire il cuore alla mente a questi ragazzi a queste ragazze per esprimere semplicemente loro stessi e questo è il messaggio dello sport posso dire anche per portare la terra questa terra fuori dai confini per portare la terra fuori dai confini e noi in modo specifico soprattutto al nord del friule venezianale dove noi viviamo a Paluzza è un confine che per tanti anni è stato chiuso ma chiuso non solo fisicamente è chiuso anche culturalmente avevamo paura di quelli che stavano di là perché le nostre nonne mia nonna Irma portatrice carnica è stata una di quelle donne che durante la prima guerra mondiale portava le munizioni al fronte per tenere quel fronte e per non essere invasi dagli austriaci non c'erano più né muli né tantomeno uomini e le donne si offrirano liberamente di portare le munizioni noi siamo ancora quelle generazioni che ci ricordiamo fisicamente di questo e quando io mi allenavo ma anche adesso passeggiando sui sentieri che stanno a cavallo Austria e la nostra Italia le nostre alpi carniche il Freikof le Pizzotti Mau e Palpicolo Palgrande tutte queste zone dove lo chiamiamo museo adesso a cielo aperto però lì sono morte tante persone lì veramente c'è quel dolore che deve diventare consapevolezza di ciò che dobbiamo essere noi oggi credo che la nostra regione sia un grande esempio di multicultura come noi abbiamo accolto veramente questa apertura dei confini del Freire Venezia Giulia che abbiamo vissuto questo purpurì di cultura eslovena austriaca ladina con una convivenza particolare rispettosa direi rispettosa rispettosa e questo è qualcosa che sta nel rispetto però a volte sta anche perché mi raccontavano delle persone io sono stata ad Auschwitz a fare credo che siano delle cose che ognuno di noi dovrebbe fare e addirittura con dei testimoni con delle persone che vissero questa esperienza fisicamente personalmente e addirittura loro hanno dimostrato quale fosse grande dolore parlare ancora adesso di ciò che è questa realtà e allora forse ecco io mi sono chiesta tante volte spesso non si parla di alcune cose tipo per esempio le malghe di Port Sous perché fanno soffrire perché fanno ancora soffrire perché poi sono dolori talmente grandi che uno pensa che non è possibile che siano successi è vero conferma e basta andare lì e non dire niente ma sentire e senti che c'è ancora questo però sta a noi un po' come nello sporno fare una staffetta siamo il cambiamento e l'Europa in questo senso può fare molto perché altro concetto importante è l'integrazione a proposito di staffetta io vi inviterei a continuare questa bella conversazione fuori così facciamo vedere anche il camper fuori siamo pronti grandissima Manuela di Centa dopo la prima parte dell'intervista noi continuiamo con la seconda parte poi andiamo a pedalare andiamo a pedalare ma soprattutto andiamo a gustarci questo spettacolo che è uno spettacolo grandioso dell'espressione massima di quello che è lo sport agonistico ma ricordiamoci anche che il messaggio che noi amiamo che io amo da grande agonista da campionessa olimpica ma che io amo profondamente è quello che lo sport deve servire soprattutto a far capire che il movimento il mettersi in moto qualsiasi sia con le due ruote con lo sci con il moto con l'acqua col salto del trampolino con gli skate non con la playstation non con la playstation però il movimento serve per stare bene serve per rilassarsi serve per stare insieme serve per passare quel minuto dieci minuti mezz'oretta una giornata il tempo qualsiasi esso sia piccolo o grande per stare insieme e poi ci si sente meglio ci si rilassa un po' ci si integra si conosce il diverso si conosce un po' anche se stessi nella fatica e nel divertimento e questo è il messaggio più grande che l'Unione Europea e noi dobbiamo dare a tutti e diamo anche a noi stessi perché muoversi vuol dire comunque mantenersi insieme è in forma quindi ora ci muoviamo per il giro grazie Emanuela grazie Europa ciao a tutti da Talmello ciao a tutti 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 Grazie a tutti.